Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life, tutta l'informazione di Rieti e provincia su rietilife.com, Facebook e Instagram. E mentre dal lunedì si torna in classe dopo le vacanze di Natale, la vicenda del dimensionamento scolastico trova finalmente una soluzione finale. Dopo mesi di polemiche, l'istituto scolastico di Montasola, che raccoglie diversi istituti di piccoli comuni della Bassa Sabina, sarà accorpato all'istituto di Contigliano, che già comprende Monte San Giovanni e Greccio. E' quanto sancito dalla regione Lazio, che non ha accolto l'istanza di deroga di un anno presentata dalla provincia di Rieti a guida Lega, per evitare i accorpamenti. Festeggia Rieti città a guida Fratelli d'Italia, con la soddisfazione del Siddaco Sinibaldi e dell'assessore Rosati, che celebrano il non coinvolgimento di istituti del capoluogo, ringraziando ovviamente il governatore Rocca. All'inizio si prospettava una fusione di Contigliano con la Pascoli, poi la virata dell'addizione Contigliano più Montasola. Questa non tra le priorità è poi divenuta scelta finale. Giudizio negativo da parte del sindacato Snals, si è persa l'ennesima occasione per pianificare interventi duraturi, lasciando alla regione la possibilità di adottare provvedimenti unilaterali. Il sindaco di Contigliano, Paolo Lancia, resta neutro. Il nostro istituto così supera i 900 studenti ingrandendosi. Partiti oggi anche a Rieti, così come in tutto il Lazio, i saldi invernali. Sei settimane di vendite promozionali che faranno respirare il portafogli dei reatini con gli sconti che termineranno il 15 febbraio. Secondo le stime di Confcommercio, sono 15,8 milioni di famiglie che compreranno durante i saldi. Ogni persona spenderà circa 137 euro per un giro d'affari di circa 4,8 miliardi di euro. In generale, gli italiani nel 2024 spenderanno circa 6 miliardi in più in consumi per fare un bilancio. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Sabato 6 e domenica 7 gennaio sono in programma due nuove giornate Open Day della Regione Lazio per la vaccinazione anti-Covid. Tutte le persone dai 18 anni in su potranno accedere liberamente e senza prenotazione alla vaccinazione nelle strutture delle aziende sanitarie, ospedaliere e degli istituti presenti sul territorio regionale che ovviamente aderiscono all'iniziativa. A Rieti, Open Day al distretto 1, al centro vaccinale di Via delle Ortenzie, dalle 9 alle 18 di sabato 6 gennaio. Appoggio Mirteto, distretto 2, in via Finocchieto, dalle 9 alle 18 di domenica 7 gennaio. Lo sport, il calcio, i campionati di eccellenza e promozione sono pronti a riniziare dopo le vacanze natalizie. S.S.A. Rieti inizia l'anno con una super sfida, al Don Pino Puglisi e a Maranto Celesti troveranno il Monte Spaccato in uno scontro al vertice. Le due formazioni sono entrambe in testa e sarà un match per il primato. Il football club Rieti invece in promozione vuole riscattare il finale 2023, il capo con il Valle del Peschiera e domenica affronterà un altro derby, quello con il Poggio Mirteto al Gudini alle 14.30. Il basket, la Real Sebastiani nel giorno dell'Epifania farà tappa a Milano per sfidare la quotatissima Urania. Giochiamo contro una delle migliori squadre di questo girone, ha detto alla vigilia l'assistant coach Ruggeri. Dobbiamo avere la massima attenzione. Sponda NPC, dunque Serie B, i giocatori di coach Ponticello volano sulle ali dell'entusiasmo con due successi consecutive e vogliono calare il Tris domenica alle 18 in trasferta contro Piombino che è in piena lotta play-off. E questo weekend porterà via tutte le festività natalizie. Ultimi eventi slittano dal 6 al 7 gennaio a causa del previsto maltempo gli appuntamenti programmati a Rieti in centro per festeggiare l'Epifania in Piazza Vittorio Emanuele II. Dunque il 7 gennaio dalle 16 Befane e Spazzacamini in piazza con giochi, laboratori, mascotte e tanti dolci. Alle 15.30 del 6 gennaio doppio evento a Rivotutri, alle 16 Presepe vivente a Santa Rufina e sempre alle 18 a Farfa. Come da tradizione sabato e domenica alle 17.45 rappresentazione della natività a Greccio sotto il santuario. A Valle Cupola c'è la Befana in vetta, appuntamento dalle 10, eventi anche con la Valle del Primo Presepe. Tutte le informazioni di questo evento e di tutti gli altri su rietilife.com Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale che torna lunedì alle 20.45. Nel frattempo rimanete informati sui nostri siti e sui nostri social e sfogliate Rietilife Free Press. Inviateci le vostre segnalazioni. Intanto buon weekend e buona serata. Nel frattempo rimanete informati sui nostri social e sfogliate Rietilife Free Press. Nel frattempo rimanete informati sui nostri social e sfogliate Rietilife Free Press.